Allarme furti a Missaglia. Dopo qualche mese di relativa tranquillità, la scorsa settimana i topi di appartamento hanno colpito in due occasioni in centro paese nella frazione di Maresso. Due episodi distinti che hanno però suscitato apprensione nella popolazione. Come purtroppo è noto, si avvicina il periodo dell'anno nel quale i malviventi colpiscono di più. I furti avvenuti a Missaglia hanno suscitato anche la reazione del Codacons che chiede interventi a questo proposito al sindaco del paese. L'amministrazione comunale, dichiara l'Associazione a tutela dei consumatori, deve intervenire con i mezzi più idonei a garantire la sicurezza dei cittadini. Le strade devono essere monitorate da pattugli a disposizione 24 ore su 24 per combattere la microcriminalità. I cittadini, soprattutto in questo periodo storico, hanno bisogno di sentirsi sicuri e, conclude il Codacons, la presenza delle forze dell'ordine sulle strade aiuterebbe molto e garantirebbe sicurezza in più per tutti. Pur sensibili al problema, il sindaco Bruno Crippa non nasconde le difficoltà di poter monitorare costantemente il territorio. A Missaglia ci sono 9.000 residenti, spiega, e possiamo contare solo su due vigili urbani in servizio. Capite anche voi che è molto difficile garantire il presidio del territorio. Per questo motivo, anche in collaborazione con i Carabinieri di Casatenovo, su spinta di alcuni cittadini, abbiamo promosso fra la popolazione un servizio di controllo del vicinato. Quanti aderiscono al sistema non fanno altro che segnalare su una chat la presenza di veicoli e persone sospette e avvertire nel caso le forze dell'ordine. Nelle zone dove il controllo è in funzione, il comune ha fisso inoltre dei cartelli che hanno un'ulteriore funzione di deterrente. Da mesi non avvenivano furdi, commenta Crippa. Ciò che deve far riflettere è che quelli accaduti la scorsa settimana si sono verificati in zone dove il controllo del vicinato non è attivo. Anche la luce di ciò, conclude il Sinaco, cercheremo di estendere il servizio chiedendo collaborazione ai cittadini che abitano nelle vicinanze.